Rimanere al passo con i tempi e sempre aggiornati sulle novità normative. Questo è lo spirito di formati per essere in regola con il tuo agriturismo. Un ciclo di incontri ideato da Col Diretti Arezzo in collaborazione con Terra Nostra. Un mondo, quello dell'agriturismo, che ha fatto registrare in provincia di Arezzo una crescita del 25% negli ultimi dieci anni, puntando sulla diversificazione e multifunzionalità aziendale. Col Diretti Arezzo, in collaborazione con Terra Nostra, ha deciso di organizzare questi cinque appuntamenti di formazione e informazioni per le imprese agrituristiche con l'obiettivo di supportarle nel fornire loro tutte quelle che sono le informazioni utili e più importanti per poter essere in regola alla vigilia della nuova stagione. Sono ormai anni che l'Associazione crede in questo percorso che ha avviato proprio per stare a fianco delle imprese e rendere tutti i procedimenti molto più snelli e più semplici rispetto agli adempimenti previsti. Non è un caso che proprio nei mesi scorsi abbiamo aperto il primo ufficio agriturismo in tutta Italia, costituito da personale specializzato, altamente qualificato, per fornire una consulenza a 360 gradi proprio a supporto delle imprese agrituristiche. Arezzo è la quarta provincia in Toscana, nonché la decima provincia in Italia, per densità di agriturismi. Oltre 300 sono gli agriturismi associati a Col Diretti. L'agriturismo oggi rappresenta la faccia più multifunzionale dell'azienda agricola e come associazione noi non possiamo stare fermi, ma essere a supporto a 360 gradi delle nostre imprese. Nel primo degli incontri di formati alla Ciotel di Arezzo si è parlato di privacy tra novità e adempimenti con l'avvocato Ettore Rosato dell'Area Amministrazione Finanza e Affari Societari della Confederazione Nazionale di Col Diretti. Un incontro molto partecipato da parte degli operatori agrituristici associati a Col Diretti e Terra Nostra, che sono oltre 300 in provincia di Arezzo. Dal 2016 è entrata la nuova legge sulla privacy e regolamento europeo per il trattamento dei dati personali. Un nostro esperto della Col Diretti centrale di Roma spiega quali sono gli adempimenti che ogni agriturismo deve compiere e quali sono le regole a cui deve sottostare affinché ci sia un corretto utilizzo dei dati personali. Anche perché in un mondo sempre più complesso bisogna aggiornarsi. Purtroppo il nostro settore, il settore dell'agricoltura, fortunatamente si è evoluto verso anche quello che è l'ospitalità delle persone con gli agriturismi, però questo comporta anche una continua formazione da parte degli operatori perché siamo tutti nati agricoltori quindi ci dobbiamo avvicinare a un mondo completamente diverso pieno di regole anche complicate, difficili e quindi questi qui noi riteniamo specialmente la Col Diretti ha ritenuto opportuno procedere con questa serie di incontri.